Sì, avrò risposto a questo intervento non per l'ordine del giorno ma per l'ordine generale dei lavori. Poi per come sono andate le sedute purtroppo non ho potuto farlo, quindi cercherò di sintetizzare entrambe le cose nei tre minuti concesso. È importante intervenire sull'atto che si discute, grazie. Io penso che qui bisogna farsi un esame di coscienza, come hanno detto molti in quest'Aula non si deve negare il problema rifiuti, si deve un attimo voltare pagina, si deve cambiare passo. Questo lo dobbiamo fare tutti, lo deve fare la maggioranza, l'Assemblea di Capitorina, lo deve fare l'AMA, lo deve fare l'assessorato, lo deve fare la sindaca. Prendiamoci questo impegno con la responsabilità che ci compete perché è vero che le responsabilità non sono solo di Roma Capitale. I rifiuti vanno gestiti a tutti i livelli e ci sono stati dei rimpalli che è bene evitare e che noi speriamo che vengano evitati nel futuro. Ora, cosa chiediamo per risolvere queste impasse? Questo ordine del giorno che poi vado a disporre constava di tre punti. Uno era la riorganizzazione di AMA e questo punto è stato analizzato dalla maggioranza e inserito in un ordine del giorno successivo. Poi chiedevo anche di rafforzare l'organismo di vigilanza perché evidentemente tutte quelle problematiche che si sono evidenziate, l'organismo di vigilanza latita. Questa è almeno quella visione dei cittadini che io mi sento di riportare come eletto dei cittadini. Quindi l'indicazione è che tutti quegli indicatori di qualità e di quantità che sono previsti dal contratto di servizio attuale e che rafforzeremo nel nuovo contratto di servizio, forse oggi l'organismo di vigilanza non ne ha data una corretta visione e interpretazione. Secondo me deve approfondire questa tematica, ma non per creare una problematica con AMA, questo collaborando con AMA per un servizio di qualità che bisogna dare ai cittadini. Perché banalmente da cittadino vi dico che lo spazzamento non è stato effettuato così come da indicatori. La raccolta dei rifiuti va a singhiozzo, è vero, AMA ha tante attenuanti, ha tante problematiche da gestire e noi l'aiuteremo a risolverle. Noi pensiamo che il bene di questa città sia ripartire dalle problematiche e non negare i problemi che la coinvolgono. Quindi mi dispiace per la piega che ha preso il Consiglio che è una mera protesta contro questa amministrazione che sta cercando con forza di risolvere problematiche importanti che purtroppo abbiamo ereditato dalle amministrazioni precedenti. Stiamo facendo un buon piano di gestione dei rifiuti, lo porteremo avanti con forza, ma io raccomando a tutti gli attori coinvolti la massima attenzione e capacità nella risoluzione delle problematiche e nella collaborazione con la Commissione e con l'Assemblea Capitolina. Ritiro l'atto e l'ordine del giorno.